Il campo delle infinite possibilità Il campo delle infinite possibilità Aspetta un attimo Queste sono onde vibrazionali di una campana tibetana Il campo delle infinite possibilità è dato da tutto ciò che può accadere Grazie a cosa? Grazie all'incertezza In questo video parliamo di certezza Quante volte avete sentito parlare di Ah io faccio questa cosa perché questo è un lavoro certo Ah questa cosa io la faccio perché effettivamente vedo che concretamente è una cosa sicura Oppure non faccio questa cosa perché C'è qualche incertezza, sono insicuro Io sono per quelle cose precise che funzionano sempre Beh tutti questi ragionamenti a volte ci impediscono di vivere la vita nella totale pienezza Perché la certezza Perché la certezza, cari amici, la certezza non esiste Purtroppo non esiste Non esiste, cioè non esiste mai Mai E quando abbiamo guai se esistesse la certezza Perché la certezza è qualcosa di assolutamente limitante Qualcosa che ci blocca in tutto quello che poi possiamo realmente avere e ottenere dalla vita Da quello che è il campo delle infinite possibilità Il campo delle infinite possibilità Aspetta un attimo Queste sono onde vibrazionali di una campana tibetana Il campo delle infinite possibilità è dato da tutto ciò che può accadere Grazie a cosa? Grazie all'incertezza Proprio perché c'è l'incertezza che noi siamo più forti e più saggi e più potenti È l'incertezza che ci dà quella forza di metterci in gioco E dire ok, bellissimo domani non so che cosa succede Ma sono certo di una sola cosa Che nell'incertezza della natura, di quello che accadrà Io saprò in qualche modo organizzarmi Perché sono fiducioso nelle mie capacità Sono fiducioso nella capacità dell'universo Del grande architetto, di Dio, di Buddha Sono fiducioso in qualcosa di supremo E so che risponderò con la mia resilienza nel migliore dei modi Questa è la saggezza della certezza, dell'incertezza Quindi, guai a pensare ad essere certi Voler cercare questa sicurezza della vita Non esiste la perfezione, non esiste la certezza Esiste il dubbio, esiste l'incertezza Esiste la possibilità di migliorare sempre In natura tutto, tutto può accadere E qui lasciamo questo campo di infinite possibilità Che possono accadere nella nostra vita Possiamo rapidamente cambiare qualcosa che sembra impossibile Da una gravissima patologia che abbiamo scoperto grave Le nostre cellule possono rigenerarsi rapidamente Con la chimica che noi andiamo a sviluppare Vi ricordate il cavaliere che è la nostra mente Che in modo intenzionale, con attenzione, con focus Produce e dà istruzioni precise al nostro cervelletto Cervellone Che deve produrre energie Che deve produrre sostanze chimiche Che servono a migliorare A dare forza Produzione di energie e di vibrazioni potenti Che vanno a guarire tutto Per magia nasce qualcosa di nuovo Voglio lasciarti questa riflessione E mi farebbe piacere un tuo commento Nella incertezza c'è la saggezza della certezza Per cui essere certi che l'incertezza è la vera potenza della vita È un aspetto fondamentale Riusciamo a vivere la vita con questa consapevolezza Che grazie alle sorprese che la natura ci riserva Nella sua incertezza Noi siamo sempre più potenti Più forti e capaci di produrre energie positive Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao